E' un grandissimo artista di musica classica, oggi è arrivato da Hong Kong, ha girato tutto il mondo, viene da Shanghai, Cos, Caraibi, dovunque, eccetera, e finalmente provo da Napoli, domani farà un concerto qui al Teatro Lustero, che lo ospita eccezionalmente per la prima volta a Napoli, quindi è un po' emozionato, però io sono sicuro che ci dà un assaggio dentro di lui, della sua arte pianistica. Facciamo una piccola, come dire, parentesi di musica accademica, di musica classica, in un concerto importante come quello dell'Occhesteliana, ci sta benissimo il mio amico Giuliano Gargiulo. Il nome napoletano di questo è il mio amico, è grandissimo, ma tu Giuliano, Giuliano, tu da quanti anni manchi da Napoli? 37. E' nato e poi si è andato dove? In giro. No, vabbè, ma io so, Russia. Russia, New York, Giuliano, Giuliano, qua, vabbè, ma però, poi hai vissuto in Italia anche un po' a Perone. Sì, però forse è meglio non dire. Perché no, 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 vabbè, perché è Perone, Nord, no, no, vabbè, ormai queste ruggini dobbiamo superarle assolutamente. Posso ripetere, Giulietta è nazotto perché la stai prendendo, se lo ricordano tutti anche per ora, però non l'abbiamo citato. Allora Giulia, che cosa fai tu, che cosa fai tu adesso, stasera, per anticipare il concerto di domani, che sarà un concerto bellissimo, di debutto. Allora Giulia, che cosa fai tu adesso. 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 Allora Giulia. Allora Giulia, che cosa fai tu adesso. Allora Giulia, che cosa fai tu adesso. Allora Giulia, che cosa fai tu adesso.